Oggi i nostri esploratori si trovano sul Mar Rosso, a bordo di una barbabarca a vela, e stanno osservando i pesci colorati. Passami il visore, voglio guardare sott'acqua. D'accordo, principessa, avrai quel vestito. Ma non basta, niente più, papà voglio quello. Lo solito non vuole dipogliere, papà. Silenzio, una truffa. Parlo in. Insomma, non ti ho proprio detto, ma l'ho pensato nella mia mente. Se avesse letto la mia mente avrebbe detto cosa.